Buongiorno a tutti giupini e giupine, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale In questo video vedremo insieme... no, no, vedremo insieme niente perché non ci sarà nessun tutorial, non ci sarà nessun schema e non ci sarà nessun progetto In questo video vi ho trollato e ci sarà semplicemente l'opzione di scelta e avrete l'opportunità di votare quale dei due schemi vorreste vedere per primo Quindi per la nostra teiera, che adesso è una lampadina, ma non preoccupatevi tanto avete già visto le immagini di anteprima, quindi sapete di che cosa farlo Per la nostra teiera, mi raccomando, lasciate un like e invece se vorreste vedere la dolcissima spolverina e quindi regalare la fidanzatina al piccolo Lumiere Non vorrete tenere separati così tanto tempo Lumiere e la piccola spolverina? Se volete vedere il video di spolverina, lasciate un commento Quindi, spolverina, commento, teiera, like Vedrete il tutorial del progetto vincitore domani alle 17 Invece il tutorial del progetto perdente lo vedrete tra 15 giorni Mi raccomando, votate e noi ci vediamo nel prossimo video Ciao!